Un minuto di silenzio oggi in Consiglio regionale per ricordare il falegname di Noventa di Piave, Ivano Polita, suicidatosi nei giorni scorsi per problemi economici. Anche Francesca Zaccariotto non è rimasta insensibile alla lettera aperta scritta dalla Confartigianato di Sandona di Piave a Monti, in cui gli artigiani definiscono i suicidi degli imprenditori omicidi legalizzati. La Presidente della Provincia di Venezia ha lanciato l'idea di organizzare un tavolo fra istituzioni, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali e mondo del credito. L'obiettivo prioritario è ottenere maggior collaborazione dalle banche che in questo momento, secondo la Zaccariotto, sono impegnate soltanto a ripianare i propri debiti. La Provincia di Venezia riesce a pagare i propri fornitori con un ritardo di 40 giorni, rimanendo nella media. Secondo i dati forniti dal Centro Studi della Confindustria nell'Unione Europea, la media invece di 52 giorni, con picchi virtuosi in Finlandia, dove gli enti pubblici pagano dopo appena 20 giorni. Rimane sconcertante il ritardo con cui il governo italiano paga i rimborsi IVA.